Sì, sicuramente adoro questo posto, è uno dei posti più belli in cui io abbia mai fatto una presentazione di un mio libro e non vedo l'ora di poterlo visitare domani. Questo libro è l'occasione per lei per riprendere un tema, la Cecenia, che è al tipo stesso molto vicina alla Georgia, che è il suo paese, ma anche tremendamente lontana. Beh, sicuramente dal punto di vista geografico è molto vicino, ma culturalmente è molto diverso, sicuramente ci sono molti parallelismi e io ammiro la popolazione di quel paese perché ho incontrato davvero persone molto forti, donne molto forti in particolare, donne che lottano, donne che lottano e vivono in una dittatura tra le più buie, che vivono con un regime veramente crudele, persone che hanno sofferto, che hanno sofferto durante le due guerre e questo mi ha davvero molto commossa, mi ha davvero molto toccata nel profondo. Culturalmente, dal punto di vista religioso, dal punto di vista delle tradizioni, ci sono delle grandi differenze, però per me è davvero molto interessante, è stato davvero molto interessante poter visitare quel paese perché il Caucaso è una regione piccola alla fine, con popoli diversi, paesi diversi, lingue diverse, ma per me è davvero stata un'esperienza straordinaria poter andare lì. Sì, sono davvero sempre molto sorpresa, è davvero un grande dono, è davvero un grande dono di fronte al quale io mi sento piccola, è straordinario, straordinario perché ha più vite, molte più vite di otto e continua a vivere perché continua ad essere tradotto in tantissime lingue, l'ultima traduzione è in cinese, dunque è un libro che ha una sua vita, che non mi appartiene più, ma è un vero e proprio dono, e dunque io davvero mi sento piccolina di fronte a tutto questo. È un libro che mi permette di essere in contatto con varie persone, persone che ovviamente non conosco personalmente, ma con le quali si crea un legame emotivo, e sono davvero grata per questo, per quello che succede in eventi come quello di questa sera. È un grande dono per me. Sì, sono molto felice, perché sono molto felice, perché sono molto felice, perché sono molto felice con me, quando ho ricevuto l'opportunità.